Allora così abbiamo percepito l'armonia che non può essere distrutta in alcun modo e quindi noi semplicemente la percepiamo sotto forma della lettera C quindi questa è l'armonia in forma di questa lettera C e niente può distruggere questa immagine In realtà possiamo anche definire, determinare qualsiasi elemento di realtà sotto forma del sistema ottico per esempio una persona in questo modo percepisce l'armonia del mondo in questo modo E vediamo che questa è l'immagine che noi percepiamo, per esempio può essere anche un singolo simbolo per esempio come questo C, però noi da questo simbolo percepiamo una quantità infinita delle informazioni Ecco perché è la prima fase della trasmissione delle informazioni Quindi l'informazione viene dall'uomo e va verso il dispositivo, quindi possiamo percepire questa informazione otticamente E quindi in questa prima fase possiamo percepire l'essere umano come una specie di sistema ottico di trasmissioni che trasmette Quindi per esempio una persona vuole il mondo assolutamente felice E da dove aderiva questo desiderio nell'anima dell'uomo? In realtà proviene dal creatore Quando noi s'vami вышli на восприятие счастливого, будущего Noi svegliamo questo cielo e ora già lo generiamo Quindi noi come un sistema ottico di trasmissione di trasmissione di trasmissioni che funzioniamo Noi abbiamo già visto che c'è un sistema di trasmissione di trasmissioni Quando percepiamo questo futuro infinitamente felice noi ci illuminiamo perché l'essere umano funziona come abbiamo parlato prima L'essere umano in questo caso funziona come il sistema che permette di trasmettere le informazioni Quindi il sistema di trasmissione delle informazioni E a queste informazioni che vengono trasmesse dall'essere umano Generiamo le pensi dell'essere umano Che è generata dal pensiero dell'essere umano Quindi per esempio una persona pensa a qualcosa Quindi nel suo pensiero appare un'immagine E questo è un'immagine O come dice un'immagine E questa generazione informazione направляется nella optica e чувствità element nella sfero. Per esempio ... ... ... ... ... ... ... La informazione trasmessa dall'essere umano viene percepita dell'elemento sensitivo ottico del dispositivo, quindi scusatemi, questo è l'elemento otticamente sensitivo che percepisce le informazioni ottiche.